Siamo a Festival Literatura con Kim Thuy, scrittrice vietnamita canadese che è qui per presentare il suo ultimo romanzo, Il mio Vietnam, uscito quest'anno per nottetempo. Kim Thuy, tu hai lasciato il Vietnam con la tua famiglia a causa della guerra. Da allora sei una canadese d'adozione e scrivi i tuoi libri in francese. Cosa vuol dire avere una doppia identità sia nella tua vita che nella tua scrittura? Io mi sento molto felice di avere due identità, perché se non abbiamo lasciato Vietnam, io saremmo solo vietnamese. Ora, io penso che ho un culturale vietnamese in me, o in me face, e un culturale canadese anche dentro di me. e quindi mi sento che sono ricca di più che la maggior gente, che ho l'opportunità di avere più di una identità. Quindi, quando non mi piace qualcosa, mi dirò, oh, sono vietnamese, non mi piace questo. E poi, altre volte, oh, sono canadese, non voglio... L'esilio e la migrazione sono centrali in tutta la tua opera, ma il mio Vietnam è anche la storia di un ritorno. Cosa significa emigrare e cosa ritornare? Io credo, arrivando in un nuovo paese, abbiamo un colturo di un colturo. Ma quando torniamo, abbiamo anche un colturo di un colturo, perché il paese continua a progressare senza te, o a evoluzione senza te. Quindi, in te pensi, ti pensi che conosciano il paese, ma torniamo e capire che è cambiata. E così, è stata un'opportunità di capire Vietnam again. E anche l'opportunità per me di sapere Vietnam che non era più in guerra. Quindi, è stato bello. Il libro è sulla storia di V, ma gran parte del libro, la prima metà, è dedicata alla sua storia familiare. Perché e cosa significa per te la famiglia? In Vietnam, you are never you. Whatever happens to you, it's because you're ancestors. If they were good people, then you have good life. If they were bad people, then you have a bad life. So, you're not responsible. When it's not going so well, you say, oh, because of my ancestors. And you have the responsibility to be good for the next generation. So, family is, how would I say it, is unavoidable because you're part of a chain. You are never just yourself. And I think it's the same thing in Italy. that family is so tightly knitted and it's so it's the same for Vietnam because they consider that you cannot exist without your ancestors or the next generation. You know, V in French, V-I-E means life. And V in Vietnamese means something very tiny. And I think very often we forget that life is made out of the little tiny things that we forget to look at. So, that's why I wanted the name and the sound appears on the cover of the book. But in Italy, I don't know what V means. You know, maybe it gives a different sound than V as life. So, my editor, she knows better what is good for Italy. So, In Mio Vietnam is so beautiful as well because it's true it's not Vietnam as such but it's a Vietnam according to my point of view. So, it's very beautiful. Un'ultima domanda che chiediamo a tutti gli autori. Cos'è per te il festival e qual è il libro che rileggeresti? You know, this morning when I saw the queue outside and never... I asked my publishing house I said where are they going? And I said they do the festival. 10 in the morning? Really? People are lining up under the rain to go to listen to an author? I couldn't believe it. And then I asked for whom, you know, who is speaking today? And she said me. I said, all these people for me? So, I was very, very, very surprised. And a festival of literature is how would I say? It's almost like a reminder that we have this luxury to be human. To be able to think and to be able to discuss and exchange and creating new ideas through the exchanges. So, I think a literary festival is basically the most luxurious and the most privileged phenomenon that humans can have. The book I would read again, I read the same book over and over again all the time. And the book that I've come back to the most is Tim O'Brien. It's called The Things They Carried. Grazie mille. Kim Thuy in New Vietnam.